Buongiorno, bentornati a Instant Book, idee e scritture per il futuro, oggi abbiamo ospite con noi, Francesco Maiellaro, Radio Blu, amico nostro, mio da tempo, che è uno dei giornalisti più liberi di Puglia, nel senso che Francesco conduce questa trasmissione in diretta, Talk Radio Blu, e ora racconteremo un po' di questa trasmissione, oltre che del tuo contenitore, cioè della radio, di Radio Blu, è una trasmissione di lungo approfondimento finalmente, e quindi di esposizione, di riflessioni, di contenuti, di offerta, di spunti di riflessione a un pubblico ovviamente vasto, perché voi coprite Bari e Brindisi. In FM Bari e Brindisi, ovviamente Monopoli dove è la sede della radio, in streaming potenzialmente tutto il mondo, e infatti abbiamo anche fatto con trasmissioni internazionali, tra virgolette. Allora, mi racconti un po' come nasce la radio, come nasce l'idea. Inizio con una piccola, diciamo, una piccola osservazione. Non siamo giornalisti, e ce ne vantiamo, nel senso che non abbiamo neanche l'ambizione di diventarlo. Siamo due ragazzi, io e un mio caro amico Dario Cazzorla, con una sensibilità musicale straordinaria. Che salutiamo? Che salutiamo, insomma, senza di lui sarebbe stato difficile mettere in piedi questo progetto. Il progetto è un progetto che nasce dalla esigenza nostra, di entrambi, di comunicare, di parlare, di quello che la informazione ufficiale omette, omette volontariamente. Quindi questo contenitore che abbiamo creato, o meglio, questo format all'interno di Radio Blu, che ci ha dato ampia libertà di parola, di movimento, di azione, è un contenitore che parla dei temi più disparati. Presentiamo libri, presentiamo cd, parliamo di cronaca, parliamo di attualità, parliamo di politica, ma il nostro messaggio iniziale in ogni trasmissione è l'invito a, diciamo così, spegnere i canali della televisione ufficiale, dei mezzi di comunicazione ufficiale, stampa ufficiale e televisione, per riappropriarsi di spazi di libertà, di informazione libera. Non abbiamo l'ambizione di fare chissà quale operazione di ascolto, non ci interessa, diciamo così, l'aspetto dell'ascolto. Ci interessa che quei temi che trattiamo abbiano un senso e abbiano un fine. Cioè al termine della trasmissione i commenti e se siamo riusciti a dare qualche spunto di riflessione, il risultato è raggiunto, anche se ci hanno seguito in pochi. Cosa che negli ultimi tempi, devo dire la verità, non accade. Siete sempre più seguiti. Sì, c'è sempre un feedback positivo. Un feedback assolutamente positivo, poi anche grazie alla rete siamo riusciti ad arrivare a fare trasmissioni davvero particolari, perché una delle... E raccontacene qualcuno. Ecco, una delle trasmissioni più particolari che abbiamo fatto è stata con tre donne. Noi abbiamo, diciamo così, ricordato, voluto ricordare la festa della donna in una maniera particolare, perché abbiamo intervistato, abbiamo chiacchierato, perché le nostre, appunto, siccome non siamo giornalisti, sono chiacchierate. Tre donne, tre ragazze sparse in tre continenti differenti. Una in Asia, una ad Harvard, ad Harvard, che lavora, insomma, all'università di Harvard, e l'ultima Barbara Amoevoli, che è una giornalista, una fotoreporter che lavora alla voce di Caracas, quindi in Venezuela. Ma sono tutte e tre pugliesi? Sono tutte e tre pugliesi, emigrate, emigrate per necessità e per scelta, e fanno il loro lavoro in una maniera assolutamente strepitosa. Appunto, nessuno parla di quello che, appunto, le menti pugliesi riescono a fare anche fuori dai confini, non solo pugliesi, ma nazionali. Donne giovani? Donne tutte e tre sotto i trent'anni. Sotto i trent'anni? Sotto i trent'anni e con un altissimo. Ma la Puglia migliore se ne va dalla Puglia? La Puglia migliore se ne va dalla Puglia, è chiaro. Quella che resta a volte si autodefinisce migliore, altre volte prova ad esserlo con scarsi risultati. Certo. Anche perché se poi il risultato è lo stimolo alla fuga dei talenti migliori e non favorire la virtuosa combinazione tra mercato e chi il mercato dovrebbe come dire innervarlo, nutrirlo di cose recenti, allora è chiaro che poi vanno via i migliori, no? Certo, nelle discipline più diverse, dalle discipline più intellettuali, anche a chi opera su temi molto concreti, medici. Ho incontrato e stiamo per organizzare una trasmissione con un ragazzo che lavora in un'organizzazione non governativa, un ragazzo pugliese, che opera esclusivamente in Africa. Storie davvero, davvero di dolore, ma di una, come posso dirti, di una verità cruda, ma a volte anche bella, bellissima. Storie di disperazione che però diventano di vita, di vita davvero sentita. Di vita che qui non c'è? Di vita che qui non c'è, magari bisogna andare un po' indietro negli anni, nella storia per ritrovare vicende simili e insomma fortunatamente i nostri nonni, i nostri genitori in parte hanno provato e ci sono riusciti a superare quelle barriere ed oggi insomma noi siamo distanti davvero tanto da quelle condizioni. È certo. Francesco, noi qui abbiamo ospitato degli editori e degli autori, per lo più pugliesi, che hanno documentato la realtà del passato. Penso per esempio all'editore Curumuni che ha una impostazione editoriale che va sul racconto di quello che era il Salento prima del nuovo tarantismo, ecco diciamo così, oppure a Fulvio Colucci che ha raccontato Taranto, così come altri autori che hanno raccontato altri pezzi, anche pezzi sociali, non soltanto pezzi territoriali della regione del passato. Tu invece, tu e il tuo socio, diciamo così, raccontate la realtà nel momento stesso in cui la realtà si fa. Io sono stato ospite da voi e commentavamo il dato dello sbarco di immigrati irregolari a Monopoli, cosa che non si vedeva da tempo in Puglia. Dall'anni del sbarco degli albanesi. Dell'ondata. Dell'ondata albanese. Però l'avevo raccontato mentre si faceva la storia, che era un fatto straordinario. E tra l'altro il mio amico Dario veniva, era arrivato in ritardo quella sera perché era stato al porto, al porto di Monopoli a fotografare quei momenti. E ci ha riportato. E ci ha riportato immediatamente la situazione. Questo è un lavoro straordinario, quello che fate voi, ed è un lavoro che però comporta delle difficoltà. Poiché noi diamo sempre delle indicazioni a chi da casa vuole intraprendere anche questi mestieri difficili. Racconta un po' quanto è difficile stare sui fatti quando sono ancora caldi, senza scottarsi le mani. Assolutamente. La difficoltà è una difficoltà innanzitutto di tempo, perché i tempi sono davvero molto stretti. Noi di Delta ne sappiamo qualcosa. Ci sono tempi strettissimi, peraltro con il format che noi abbiamo pensato e che portiamo avanti è davvero complicato con la rete fare un programma di approfondimento settimanale, perché molto spesso una notizia di attualità, noi andiamo in onda ogni martedì sera. Ora abbiamo sospeso per le vacanze estive, però faremo degli speciali. Una notizia è uscita il mercoledì, fino al martedì successivo. È già bruciata. Non solo è bruciata, sta negli archivi. Sì, è già archiviata, è nella storia. È archiviata ed è difficile andarla a ripescare e riattualizzarla. Noi, è questa la difficoltà più grossa che stiamo incontrando. Perché è ovvio che non possiamo stare sul pezzo, come si dice in termini giornalistici, perché non è un programma di approfondimento quotidiano, è un programma settimanale. Quindi prendiamo spunto da alcune notizie che non vengono date, anche di carattere internazionale, per riflettere sulle ripercussioni che poi ci stanno. Con degli ospiti. Ogni puntata c'è un ospite, c'è un ospite differente che o presenta un libro. Che voi scegliete come? Noi scegliamo a seconda del tema che vogliamo trattare. Abbiamo un'idea, vogliamo discutere di un certo aspetto della politica e vediamo che si è costruito un percorso attorno a un movimento, a un gruppo, a un comitato. E l'ho invitato. Chiamiamo il comitato, come nel caso dei libri ad esempio, libri particolarmente significativi che vengono, insomma, non dico trascurati, ma vengono in un certo senso messi in seconda ordine, in seconda luce rispetto a quello che è appunto l'ambito generale. Noi li riprendiamo e approfittiamo per parlare del contenuto del libro, ma anche delle conseguenze, delle interpretazioni sulla realtà. Giornalismo ad esempio. Ospitiamo giornalisti. Facci dei nomi di chi avete ospitato. Allora, abbiamo ospitato Mauro De Nigris, abbiamo ospitato Vito Giannulo, abbiamo ospitato la realtà della precarietà del giornalismo giovanile. Ecco. Noi abbiamo cominciato qui a Instant Book a ospitare i precari della stampa, dei quotidiani. Ecco, lì c'è una situazione che ci è stata raccontata dai ragazzi che concretamente fanno i giornali, poi fanno i siti web. Davvero assurda, davvero drammatica. Ragazzi che lavorano praticamente gratis, lavorano con l'ambizione... Non hanno neanche rimborso spese, talvolta. No, non hanno rimborso spese. Lavorano con l'ambizione di prendere il tesserino, oppure chi già il tesserino lo ha... Con l'ambizione di uno stipendio. Con l'ambizione di un lavoro, di uno stipendio. Insomma, proviamo a parlare di questo con chi concretamente vive quelle condizioni. La condizione del lavoro. Abbiamo descritto, abbiamo fatto tre puntate specifiche sul lavoro, insomma, fatte in maniera particolare. Una sulla precarietà nella scuola, un'altra sulla condizione di lavoro nelle fabbriche e non solo le fabbriche, diciamo, della provincia di Bari. Ma abbiamo esteso il discorso e anche l'interlocuzione con ospiti telefonici fuori regione. Insomma, questo proviamo a fare. Perché c'è anche la possibilità di chiamare in trasmissione. Chiamare in trasmissione, interagire attraverso Facebook, in diretta, attraverso la RA, attraverso gli SMS, insomma, con tutti gli strumenti. C'è il sito, il sito che è interattivo, quindi ci si vede in streaming, in diretta e si può immediatamente commentare quello che stiamo facendo e che stiamo dicendo. E magari qualcuno che non è d'accordo con quello che l'ospite sta dicendo o che noi diciamo, interloquisce in maniera assolutamente libera. Non abbiamo finora mai avuto problemi a riportare appunto le critiche.